Ma ehi la ciurma! Benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore 2015 No, Spore basta! Spore Galactic Adventures! Siamo qui in una situazione tipo tragica, c'è pausa un attimo ecco, qua ci hanno praticamente conquistato, questi sono nostri, no sono dei nemici, ci hanno conquistato quella, ci hanno conquistato anche questa? Sì, ci hanno conquistato anche questa? Sì, no, forse, no, questa è mia, no, questa è mia, sì, ma quindi questa è ancora mia, sì è mia, ma questa no, la sto conquistando ma la sto tipo perdendo quindi, uh c'è anche il pulsante qua, super mega OP Ce la si fa qua almeno, città mozzo è stata conquistata, eh, 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 era la città prima Eh, uno dei cosi di Spezia è sotto attacco, ma ce la si fa qua? No, non ho più truppe! C'è Pupazzi, ma... Attaccate quelli, i pup... ma no, 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 niente, ho perso ragazzi! Eh, niente, ragazzi qua ormai ci prendono l'ultima città, beh però sarà interessante perché non ho mai perso alla fase civiltà di Spore, cioè ho sempre staticamente stravinto E... forse per quello mi sentivo sicuro, ho rushato come un pazzo e niente Possiamo semplicemente rallentare un po' la loro avanzata ma non succederà niente di che perché ci sono i sei, ormai... Cioè è andata È andata! Vediamo cosa succede, voi avete mai perso Spore? Eh, credo di... no! E neanche io, vediamo che Kaiser succede Che cosa succede se... eh... perdiamo Sono tutti incavolati A bestie proprio Adesso mi distruggono l'industria, quindi saranno felici di nuovo Yeee, che bello, sono tutti felici Mi stanno conquistando The City pure Ormai è questione di attimi, ragazzi, vedremo Che succederà Sarà tipo un game over? Game over Forse ci fa ricominciare dalla parte iniziale della fase civiltà Che barba È una delle fasi più noiosi di tutte La fase tribù anche, non mi piace un Kaiser di nulla Le uniche che mi piacciono sono la fase spaziale e la fase iniziale Perso Le uniche che mi piacciono sono le cose stagioni Il che è un'altra cosa Che si è un'altra cosa Se tu si è un'altra cosa Scusate, mi chiamano al telefono Ricomincio tra un attimo Boh Han buttato giù Non so cosa dire Eeeh Forse 2000 sporecrediti potrebbero aiutare a convincerci Eeeh Però tanto qui abbiamo perso Chi è che ci stava Venite tutti qua No, mi è morto ormai Con chi siamo in guerra? Contro i rossi, ma Questi mi sono neutrali Non so che Kaiser Cosa sta succedendo? Andate contro quello, veloci Il giallo c'è tipo Mi Circa Eeeh Se mi fa ripartire dal salvataggio qua sono abbastanza in guai Perché non è che ho Particolarmente tanti Sporecrediti Ecco Cioè me ne hanno dati 2000 là ma Mi ha sfasciato la torretta, no? Crebio Ma proprio al pelo me l'hanno distrutta Sì, sì Usaccio Uno qua è la torretta Eh, vendi per zero Eeeh Non ho un Kaiser tanto Quindi, niente Eeeh Voi Oh, c'è qualcuno che si sta curando? Sì, credo di sì Abbiamo dei depositi di spezia almeno Questo è nostro Cosa ci dice? Città mozza è stata conquistata Eeeh, lo so Andate a sfasciare questi qua blu Non abbiamo tanto possibilità di tirarci su comunque Non abbiamo sporecrediti, crebio Producete qualcosa Oh E sporecrediti insufficienti Una miseria Mi hanno sfasciato tutto qua Per l'ennesima volta Allora, questa è nostra? Questo deposito di spezia è nostro? No, è della nazione arancione Noi siamo di tipo il colore cacchetta, ecco Non abbiamo depositi di spezie No, questo è nostro, forse Sì È l'unico che abbiamo Non ho sporecrediti per creare dei veicoli Attaccalo Oh, ma perdiamo lo stesso qua Va a finire No, no, sporecrediti Ma non posso riniziare da un altro momento Scusate Cosa vuol dire bandisci? No, non salvare Eh, non salvare Sì, elimino il riparto della fase civiltà Con Mozzo Tanto dovrebbe essere salvato Sì Addio Mozzo Ma no, mi ha eliminato pure il pianeta Ma, eh E vabbè, iniziamo con una tarantella qua Da qualche altra parte Iniziamo qua Eh, fase civiltà Seleziona una creatura Mozzo Questo È l'ultimo questo, no? No È questo, quello più aggressivo, forse Questo cosa vuol dire, quello a fare là? 29, 3 22, 3 29, 3 No, questo è più vecchio 13, 3 No, dovrebbe essere questo l'ultimo Ma non ha niente di aggressivo qua Scusa, impostazioni Vediamo un attimo Gli accessori Ma non ha accessori cattivi qua Però sa volare Questo anche sa volare Ma ha anche degli accessori cattivi Eh no, infatti Questo mi serve di più Quindi Bello Lui Vai Nessun tema Non ho ancora mai capito Di normale Andiamo Religioso era Non mi ricordo cosa avevamo fatto Era questa Sì Nel municipio Che ne so Non mi ricordo più io adesso Metti il castello di corallo Vai Il nome del tuo pianeta Si chiamava Tarantella Oh Allora Adesso bisogna cercare Di fare una tattica Un pochettino meno aggressiva Diciamo subito all'inizio Cercare di non rushare troppo Forse perché avevo già messo Sì Questo l'ho creato io Lol Forse perché avevo messo In difficoltà normale E ho rushato come in modalità facile Non mi ricordo No, sto pianeta fa schifo Era più bello l'altro Sì Evviva Questa introduzione Me la fai tutte le Dannate volte Non mi puoi chiedere Salta al tutorial Il veicolo Andiamo a prendere la spezia Sì Lo so La spezia può essere una risorsa Super mega Iper importante Infatti abbiamo perso Allora Dobbiamo andare a fare le case Odio la fase Civiltà Sporepedia Tutto Questa È abbastanza Gay Va bene E Questo Fa schifo Va bene lo stesso Questo Sembra una cosa molto cattiva Mi ricorda la fabbrica di cioccolato Non c'entra niente Con la fabbrica di cioccolato Però Boh Me la ricorda E quindi Non ho più niente Per mettere l'intrattenimento Vabbè Saranno un po' tristi Ecco Però magari Riusciranno a produrre Un po' di spezie Ok Vai a prendere Delle altre spezie Di Qua Non capisco Perché la mappa In un modo E il mondo In un altro Odio questo visuale Cioè Ho bisogno di spezie Per organizzare Gli edifici Mille tre Non so quanto sia Cosa c'è Sto a fare Difendi la posizione Ma dove è andata la mia Qua E l'altra Dove Scusi Ma l'avevo mandata qua Che brutta fine Mi ha fatto Ma io avevo Una motoretta L'ho mandata in qua The fuck Avevo una motoretta E il progetto è una città felice Ma adesso non ho più Sporre i crediti Per fare La motoretta Qua per Pupazza Non già adesso Non ho un cribio Di niente Sto proprio per dire Evitiamo di espanderci Troppo Aspettando che Arrivino gli altri Ma forse vai in automatico Quando hai un tot Disporre i crediti Ma levo Sì Ok Ma io avevo preso Adesso mi rubano tutto Vuoi vedere No Non capisco come funziona Sta visuale Ed è mierda Non posso Ecco Così almeno Se vado a sinistra È a sinistra No non proprio Se vado a sinistra È a sinistra Sulla mappa Se vado così È così Ok Fai un altro Cosù terrestre E magari Alleiamoci con i gialli Allora Facciamo una comunicazione E diciamo Contatta Che intenzione Di avere Ah gli devo mandare Gli spore i crediti Non ne ho Di spore i crediti Lol E' grasso Dice Oh Vorrei Allermi con quelli Ma non ho Non posso fare Dalle barche No Ah devo creare Nel pianificatore Della città Pupazza Vai barca Religioso marino Allora dammi La cosa più schifosa Che hai Potere religioso Ma No Potere 15 No Allora Così 48 Sì Va bene Fa schifo Ma va bene E 1.5 Costa troppo Ok Naturalmente Di nuovo Tutta sfappata La visuale Ok Abbiamo bisogno Di 1.500 Spore i crediti Sbrigati A possederli L'incremento Dei Troiti Turpea E' stata Affondata Ok Ok Vai a prendere Delle spezie In mare Tipo Qua Il marrone Me li apre Cioè ti rendi Conto il marrone Ah richiede Quattro città Converti Una città Avversaria Eh ma io avrei Bisogno di qualche Alleato Magari Alleato Andiamo contro Qualcuno In via In via In via Dei regali E se posso chiederti Marzio LOL Allora io Insulterai Quelli Ma Si una rotta Commerciale Perfetto Dovrebbero esserci Più amici Adesso Cioè dovremmo Comunque guadagnare Più soldi Tipo Non lo so Che vuol dire Che celebra L'aumento Degli intro Ma che chiedi Ma io andrei Ad attaccare Quelli marroni I depositi Marroni Tipo Quello Buon ragazzi Mi sa che Questo episodio Sta diventando Un po' Troppo Lungo Cosa fa Con l'ambra D'angelo Ah sta portando Dei Degli affari Devo cercare Di fregare Le risorse E quel cane Prima che le freghi A me Io sono già In due La Pezzente Vuoi vedere che mi vuole Rubare le risorse La Ehi The fuck Che cosa Non ho capito Cos'è successo Sono in guerra Con la nazione Marrone Eh lo so Sentimi Dai una mano Contro la nazione Marrone Del bimbo Qua anche navi Ma non ho soldi Io Eeeh Bel bimbo Non mi aiuta ? Sono in vitale Ma non mi aiuta Luurti Aspetta io metterei delle torrette qua Come 2000 ma vaffan brodo C'è col Kaiser Ci costruisco due affari con Chi mi sta toccando? Ai marroni del Kaiser Come più Kaiser richieste? Ma che Kaiser? Siamo di nuovo nei guai Una miseria Beh i bimbi venite tutti qua Ho visto che ho parecchie truppe Perché non Più case Ma vaffan brodo C'ho due case Quante cavolo di case hai bisogno? Ok quello si sta curando Riusciamo a seccarlo questo Oh Vorrei magari anche dichiarare guerra A quegli altri pezzenti là Questi sono dei miei Stai qua Buongiorno Ragazzi Io faccio che salvare qua Che è una situazione di sicuro più favorevole Dell'altra All'altra Era proprio un po' nella Cacca ecco Qua bisogna cercare di fare un pochettino più di attenzione Noi ci vediamo nel prossimo episodio Vi invito a lasciare un mi piace E iscrivervi al canale Se per caso non l'aveste già fatto E lasciare un commento Per dirmi ciao Sono passato di qua E volevo salutarti Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.